Ciao a tutti. Volevo parlarvi di un libro di fotografia. È diventato uno dei miei libri preferiti in assoluto, che ho scoperto relativamente molto tardi, l'anno scorso. Il libro è di Kenneth Graves, detto anche Ken Graves, dal titolo di Homefront. Il libro è un libro inusuale dal come si sfoglia, perché viene visto in questa maniera qui e le fotografie alcuni sono verticali, come questa, e altre orizzontali, quindi anche l'impaginato è molto inusuale. Le fotografie di Ken Graves catturano l'umorismo, ma anche il fatos americano, nell'era transitoria degli anni 60 e 70. Con uno sguardo che proviene dai margini, Graves evidenzia le contraddizioni legate alla cultura americana, modellate equamente tra l'idealismo e il declino. C'è lo smantellamento dei miti, giocando e creando tensioni nel concetto di sogno americano. Insomma, secondo me è un autore, ripeto, molto poco conosciuto. E di rilevanza, secondo il mio punto di vista, molto importante nel mondo della fotografia contemporanea. è in bianconero. Autore fondamentale, Kenneth Graves.